Potrà Westbrook essere l'NVP della stagione? Ancora non so dirlo, troppo presto l'NBA quando conta veramente sono le ultime 20 giornate di stagione regolare e playoff, adesso è troppo presto. Chiaro che Westbrook è un grande giocatore, atleticamente pazzesco, il fatto che abbia segnato 50 punti, abbia fatto più volte doppia-tripla, è indicativo di un grande giocatore, di fatto però è ancora troppo presto per poter dare con certezza che possa essere l'NVP, io non credo, ci sono altri giocatori meglio di lui e soprattutto in squadra più vincente. E quindi di conseguenza dove potrà arrivare OKC? È ancora presto per poterlo dire, buona squadra, non super, la perdita di Kevin Durante è troppo pesante, farà una buona stagione, io credo non straordinaria. In ogni caso, chapeau a un giocatore che ha ampi margini di miglioramento, data anche l'età molto giovane, quindi solo le partite indicheranno la strada di Westbrook e di OKC. Ci vediamo, ciao!